Let's move in game, get it on I think we'll be able to become future champions So, I'm happy Hi, how are you? Hi, good How are you prepared after the match? How are you prepared for the match with Verona? I think we're going to start the week by thinking about Verona I'm going to do well We're only going to win Visto che ci sono pochi attaccanti, pensi di avere l'opportunità di entrare in partita? Sì, io sto lavorando per giocare Penso che adesso forse avrò un po' di opportunità Spero di essere pronto se il mister decide di mettermi in campo